Concluso il presidio permanente dei dipendenti dell'ex provincia di Caltanissetta nell'Aula Consiliare dell'Ente, un presidio iniziato lo scorso 16 luglio in attesa dell'approvazione della nuova legge sui liberi consorsi comunali e le città metropolitane. Il Parlamento regionale ha infatti approvato la riforma con 36 voti favorevoli, 11 contrari e 6 astenuti, ridisegnando così l'assetto istituzionale dell'isola e concludendo in Sicilia l'era delle province. Siamo soddisfatti perché correvamo il rischio che si poteva fare di peggio. Invece è stato fatto qualcosa che nel resto del paese non è stato fatto, cioè si sono salvati i lavoratori delle province. È solo in Sicilia questo è avvenuto, mentre dal Reggio Calabria in su il 50% di questi lavoratori sono stati messi in mobilità. Abbiamo vinto una battaglia, non abbiamo vinto la guerra che è relativa anche ai finanziamenti e a quello che sarà il nostro futuro che dipenderà comunque dal proseguo della legge. Non appena poi riprenderà anche l'attività dell'Assemblea regionale e continueremo su quella che dovrà essere l'applicazione della norma, perché ora il problema è applicazione della norma. Noi desideriamo avere più servizi da svolgere nel territorio, questo però, dobbiamo essere sinceri, significa avere più servizi, più lavoro e quindi più risorse finanziarie. Da oggi in poi il nostro problema sarà quello anche finanziario ed economico, perché i livelli occupazionali non sappiamo fino a che punto saranno garantiti, così come anche dal punto di vista contabile tutto l'apparato finanziario come verrà stabilito e garantito per questi lavoratori, per le società partecipate che lavorano ancora nella provincia e che sono tuttora in vigore. Questo avrà ripercussione naturalmente sui servizi che l'ex provincia aveva erogato, che deve erogare, quindi per noi sarà importante da questo momento vigilare. Il Ministero dell'Interno intanto ha emanato una direttiva per le città metropolitane e i capoluoghi di provincia che concede una deroga nella presentazione del bilancio fino al 30 settembre. Deroga che non vale per numerosi comuni d'Italia, tra cui decine di piccoli e medi comuni dell'ex provincia di Caltanissetta, che rischiano dal 1 agosto di veder cessati molti servizi pubblici in proroga e in scadenza, come ad esempio trasporto e assistenza ad anziani e inabili, con il conseguente licenziamento di 300 lavoratori. Ecco perché la CGL e la CISL lanciano un appello ai sindaci dei comuni interessati a mobilitarsi per far sì che il Ministro ampi la deroga.